ciao ciao a tutti e benvenuti su archidee quando ho creato questi orecchini in pasta polimerica per il tutorial che ho già pubblicato vi avevo promesso che vi avrei fatto vedere come ho realizzato le monachelle con la tecnica wire wrapping si tratta di monachelle un po particolari non sono standard ma hanno anche una decorazione vediamo quali sono gli strumenti che ci serviranno e i fili allora tronchesi pinze a punta piatta e pinze a punta conica poi come sempre in info box troverete i link per acquistare il materiale e gli strumenti questo è un mandrino circolare che ho utilizzato per creare la curvatura delle monachelle e questa invece è una lima in metallo che serve a rifinire il bordeaux dei fili metallici per quanto riguarda i fili metallici ho utilizzato i fili in rame è rame colorato con trattamento non tarnish e ho utilizzato solo due spessori lo 04 e lo 09 potete tranquillamente sostituire lo 09 con uno 08 io ho preso uno 09 perché ho scelto una colorazione oro rosa e era disponibile solo lo 09 e non lo 08 altrimenti abitualmente lavoro con lo 08 per quanto riguarda gli orecchini faremo due montature diverse per la montatura di questi orecchini un po più grandi a forma di navette avrete bisogno di 30 centimetri di filo da 08 da dividere poi in due parti da 15 centimetri quindi e avrete bisogno anche di due pezzetti sempre lunghi circa 12 13 centimetri fatelo anche un po a occhio e di filo da 04 che serve per le legature per quest'altro modello di orecchini ci servirà un po meno filo invece di 30 centimetri ce ne basteranno circa 24 da dividere in due parti da 12 centimetri anche per questi orecchini serviranno due pezzettini di filo da 04 lunghi circa 12 centimetri adesso andiamo a vedere come realizzare il primo tipo di monachella che è leggermente più semplice perché in questo componente ho una foratura sola mentre nell'altro ne ho due vado a inserire l'orecchino nel filo lasciandone una parte più corta e una parte più lunga quindi piego il filo e giro la parte più lunga intorno a quella più corta per due volte quindi facendogli fare due giri e poi riporto il filo nella parte frontale del mio lavoro a questo punto vado a prendere il filo da 04 e con questo filo vado a bloccare il filo da 08 con il quale stavo lavorando quello che ho fatto scendere sulla parte frontale e lo vado a bloccare sul filo da 08 fuoriuscente dal buchino in questo modo si crea una sorta di piccolo cappio una v che parte dal dal buchino del mio componente e in quel punto dovrò poi andare a bloccare la spiralina prima di fare la spirale ho limato leggermente la punta del filo e poi per fare la spirale ho utilizzato le pinze a punta conica ho preso proprio l'inizio del filo ho iniziato a farle girare e a un certo punto ho preso le pinze a punta piatta e ho continuato con gli avvolgimenti fino a portare la spirale proprio nella parte superiore della lavorazione in corrispondenza del buchino del mio componente ho preso la parte che mi avanzava di filo da 04 e sono andata a fare un paio di avvolgimenti tra la spiralina e il filo retrostante per andarla a bloccare sulla lavorazione dopodiché l'ho stretta un pochino l'ho sistemata e alla fine ho tagliato poi il filo da 04 bisogna fare attenzione tagliarlo il più possibile vicino alla lavorazione e poi magari spingerlo un attimo con le pinze a punta piatta all'interno della lavorazione per fare in modo che non graffi a questo punto andrebbe fatta la monachella ma prima di creare la monachella ho creato la stessa lavorazione sul secondo orecchino e l'ho fatto per creare poi le due monachelle in parallelo in modo da averle il più uguali possibile vi faccio vedere anche la lavorazione del secondo orecchino ho provato a metterla nel video leggermente più zoomata tramite l'editing del video non riesco purtroppo a farlo direttamente mentre lavoro perché se zoom troppo sulle mani poi rischio rischio di andare sempre fuori dall'inquadratura quindi in realtà io riprendo un po più da lontano e poi in fase di editing vado appunto ad avvicinarmi spero comunque che sia comprensibile e visibile quello che sto facendo in ogni caso se non capite alcuni dei passaggi potete sempre scrivermi nei commenti vi ricordo inoltre che c'è disponibile il mio corso online sulla tecnica wire wrapping in cui vi insegno proprio come valorizzare alcuni componenti specialmente anche quelli fatti con la resina ma possono essere anche cabochon in pasta polimerica tramite la tecnica wire wrapping questo perché come sapete a me piace molto fare dei gioielli che siano composti da più tecniche o in generale in tutte le mie creazioni c'è sempre una contaminazione delle varie tecniche creative in particolare le montature wire valorizzano particolarmente gli elementi in pasta polimerica e in resina qui vedete che sto dando la piegatura alle monachelle con il mio mandrino mettendole in parallelo sono sicura di dare la piegatura proprio nello stesso punto e facendola con il mandrino sono sicura di farla della stessa dimensione se non avete il mandrino potete naturalmente sostituirlo magari con un pennarello o con una penna qualsiasi cosa che abbia una sezione circolare con il diametro giusto per essere utilizzato per una monachella poi dovete fare particolare attenzione al fatto che la parte terminale della monachella non sia tagliente perché naturalmente va inserita nell'orecchio quindi qui quando fate la carteggiatura fatela veramente attentamente e dopo che l'avete fatta controllate con la punta del dito che non sia tagliente e che siano appunto indossabili senza pericolo di ferirsi facciamo adesso gli altri orecchini questi orecchini come vi dicevo hanno una doppia foratura una un po più bassa e una un po più alta dovete sempre bloccare il filo da 0,8 in modo che abbia una parte più alta e una parte più bassa nel secondo buco quello più in basso e piegate il filo poi prendete il filo da 0,4 e lo fate passare nel buco superiore piegato a metà in modo che scavalchi il filo da 0,8 prendete le due estremità di filo da 0,4 e fate fare solo un giro sul filo da 0,8 che è nella parte inferiore sul retro del pendente prendete poi il filo da 0,8 nella parte frontale del pendente in corrispondenza del buco superiore dove lo abbiamo bloccato con il filo da 0,4 lo piegate ne schiacciate la parte piegata e iniziate a fare una spirale interna tenendolo premuto con il pollice poi bloccate questa spirale come abbiamo fatto per gli altri orecchini tramite le due estremità di filo da 0,4 andandoli a far fare da tutti e due lati un paio di avvolgimenti e poi riportando il filo da 0,4 sul retro dell'orecchino quando fate la spirale centrale vi dovete fermare lasciando circa un centimetro e mezzo due centimetri di coda che andremo a limare e con questo pezzettino di filo che è avanzato andiamo a fare una spirale nel senso inverso rispetto alla precedente ed è stavolta una spirale esterna e non interna con lo stesso metodo che abbiamo utilizzato prima per quanto riguarda le due estremità di filo da 0,4 adesso avete due opzioni o le tagliate oppure le fate girare ordinatamente creando degli avvolgimenti sul filo da 0,8 fino a che non finisce appunto il filo e schiacciando proprio la parte terminale eventualmente togliendo proprio l'ultimo pezzettino anche qui andate poi a passare la lima anche sulle estremità di filo da 0,4 per assicurarvi che non sia pungente questa sarà la parte frontale della monachella che andremo a realizzare in un secondo momento proprio come abbiamo fatto per gli altri orecchini infatti anche per questi orecchini vado a fare la piegatura alla fine in parallelo di tutte e due le monachelle quindi a questo punto dovete solo ripetere lo stesso procedimento sul secondo orecchino e ve lo faccio vedere leggermente più zoomato allora volevo dirvi anche due cose a proposito della lunghezza dei fili che si utilizzano per quanto riguarda i fili da 0,8 io vi ho dato delle lunghezze piuttosto indicative nel senso che non è detto che le dobbiate seguire alla lettera perché quello che andiamo a realizzare ha una gran parte che è proprio decorativa ed è quella dei riccioli per cui più è lungo il filo più potrete andare a creare dei riccioli più abbondanti ovvero con più giri invece se decidete se optate per una decorazione più minimal magari anche senza i ricciolini ma semplicemente con un piccolo archetto finale potete optare anche per un filo che sia 3 4 centimetri più corto quindi fate le vostre prove la lunghezza dei fili dipende anche molto dai componenti che andrete a realizzare con le paste polimeriche o se ne avete potete realizzare questi orecchini con delle pietre dure forate spesso si trovano dei ciondoli in pietra dura con questa foratura e potete utilizzarli per fare appunto i pendenti degli orecchini a patto che non siano troppo pesanti come vi dicevo la lunghezza del filo da 08 dipende da questi componenti perché dipende dalla posizione della foratura rispetto all'estremità superiore dei componenti infatti io normalmente realizzo le forature sui componenti in pasta polimerica in modo che non siano davvero troppo troppo vicini al bordo perché altrimenti quel punto il punto tra la foratura il bordo del componente sarebbe un punto critico un punto fragile in cui il componente si potrebbe facilmente rompere e quindi realizzando le più in basso dovrei utilizzare spesso degli anellini molto grandi che neanche si trovano molto facilmente o se si trovano a volte non stanno bene con l'estetica degli orecchini e questo è uno dei motivi per cui ho deciso di realizzare questo tipo di monachelle. La piegatura delle monachelle avviene nello stesso modo rispetto alle precedenti dovete solo fare attenzione che la parte dove finiscono i fili da 0 4 non sia pungente quindi stringeteli bene sul filo da 0 8 e se necessario andate a limare prima ho dimenticato di dirlo ma si vede chiaramente l'ultima parte delle monachelle in genere è dritta quindi dopo aver fatto la curva prendete le pinze a punta piatta e andate a piegare l'ultima parte delle monachelle quello che non vi farò vedere in questo video è l'ultimissimo passaggio avevo difficoltà sinceramente a riprenderlo e si tratta della martellatura delle monachelle vi dovete mettere su un una piccola incudine in acciaio con un martello e dare giusto due due martellate nella parte curva delle monachelle questo è il risultato che andrete ad ottenere in questo modo le monachelle avranno una curvatura più stabile e meno deformabile infatti il filo da 0 8 da 0 9 non ha un grande spessore per cui sarebbe stato poi facilmente deformabile da mani inesperte se toccato da mani inesperte e spesso chi acquista gli orecchini artigianali non sa che deve fare delle particolari attenzioni per cui mi raccomando fate la martellatura finale per garantire la forma della monachella nel corso del tempo e soprattutto dopo molti usi in questo modo rimane stabile ogni volta che si vanno a mettere e a togliere se volete aggiungete un tappino in silicone che in genere previene dallo smarrimento degli orecchini specialmente nei mesi invernali quando si indossano sciarpe e foulard nei quali gli orecchini possono impigliarsi spero che questo video vi sia stato utile che vi sia piaciuto se vi è piaciuto non dimenticate di mettere un pollice in su di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video e i prossimi tutorial se avete delle domande scrivetele nei commenti io come sempre vi saluto e ci vediamo presto con il prossimo video ciao